Sempre qui da aspettare che esca questo benedetto numero dove imbarcarci, ormai questa mattina sono passate molte ore, prima 6 ore di ritardo e poi altre 6 ore, se va tutto bene partiremo per le 8, vediamo un po'. Ragazzi è uscito B7, vuol dire che il volo ci sarà davvero. B7, ma che dico? Eravamo lì da poco e ci hanno chiamato per il B30, mentre eravamo in corsa ci hanno richiamato e ci hanno detto B21. Speriamo che lo usci e bombardieri americani. Vabbè dai, ce l'abbiamo fatta, speriamo. Siamo qui come le sardine. Ed eccoci finalmente a Fortalesa. Abbiamo fatto scalo questa notte più o meno la una a Natale, un'ora per tutte le formalità, poi subito a Fortalesa. A Fortalesa ho un momento di panico perché Marina non c'era, non era ancora arrivata. Naturalmente Marina fa parte dell'organizzazione Spinelli. Poi è arrivata, ci siamo presi un bel caffè, non un caffesigno, un caffè e sono qui e adesso il terminal per Teresina, l'aeroparca fra un'ora alle 6, puntualissimo, per i anni. Lo scorso aereo bellissimo, dalla TAM, quando sono entrato mi hanno detto ciao, mi ha detto come fai a sapere che sono italiano? Tu sei italiano. Buon anno perché io sono qui che barbello. Avete visto l'arietta prima. Questi qui sono camionetti, scollati, bracciala morte. Sarà un po' però che ha un fisico davvero. Stavo a leggere ben bene come è stato quell'aereo lì, che razza di slogan ha scritto sulla carlinga. Devo proporre agli anni di venire qui. Ci sono delle hostes che vanno benissimo a fare il centroavanti del Mino. Unicidense. Andiamo a Teresina. E' appena andato via un ragazzo che è dalla stradina principale, prima di entrare in Cana, come si usa qui in Brasile, ha battuto le mani, ha aspettato che qualcuno mi andasse incontro, è entrato in Cana e ha chiesto un bicchiere d'acqua, acqua fresca. La moglie di Giulio naturalmente andava del prevarifero uscita un bicchiere pulito con l'acqua. E lui naturalmente ne ha bevuto due bei bicchiere d'acqua fresca, ha salutato e se ne è andato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.